Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi parleremo se il cane può mangiare le castagne. La risposta è un po' complessa. Le castagne non sono tossiche per i cani, ma ci sono alcune cose da considerare. Prima di tutto, le castagne devono essere cotte. Quelle crude possono essere difficili da digerire e, in alcuni casi, possono causare problemi gastrointestinali. Inoltre, è fondamentale rimuovere la buccia. Che può essere un pericolo di soffocamento. Inoltre, le castagne sono ricche di carboidrati e calorie, quindi è meglio offrirle come un piccolo snack occasionale, piuttosto che un alimento regolare nella dieta del tuo amico a quattro zampe. Se decidi di dare delle castagne al tuo cane, inizia con una piccola quantità e osserva come reagisce. Ogni cane è diverso, e alcuni potrebbero avere una sensibilità maggiore rispetto ad altri. Infine, se il tuo cane ha problemi di salute, come obesità o diabete, è meglio consultare il veterinario prima di introdurre nuovi alimenti. Ricorda, la salute del tuo cane è la priorità.